Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? L'Umi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. L'Umi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. L'Umi Beer si abbina a qualsiasi palato. L'Umi Beer è un prodotto esclusivo azienda agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Una sanzione complessiva di 2 milioni e 500 mila euro è stata combinata dalla Guardia di Finanza di Treviso a 25 persone che avevano pagato in contanti a 3 concessionari all'anticipo per l'acquisto di un'auto. L'intervento delle fiamme gialle trevigiane, le investigazioni, segue gli arresti e sequesti avvenuti lo scorso novembre nell'ambito dell'operazione Salone di Lusso che ha portato a sgominare un gruppo criminale attivo nella marca trevigiana dal 2015 dedito alla truffa aggravata ai danni dello Stato e falso ideologico nel commercio di autovetture di provenienza comunitaria. I finanzieri hanno passato al setaccio centinaia di operazioni di compravendita di autovetture individuando un primo gruppo di 25 clienti che, violando la normativa valutaria, hanno versato alle tre concessionarie coinvolte nell'indagine il prezzo di acquisto in denaro contante oltre la soglia stabilita dalla legge che all'epoca dei fatti era pari a 3 mila euro. I clienti in questa prima fase sono stati individuati nelle province di Treviso, Belluno, Padova, Venezia, Verona, Vicenza, Pordenone, Piacenza e Cosenza che avevano risposto ad annunci online delle concessionarie che rivendevano in Italia auto importate principalmente dalla Germania, Francia, Spagna e Belgio. Ulteriori indagini in corso. Claudin, locale per palati fini e buon gustai, dove si mangia, si beve e si respira burda, collio e quai. Sono Claudio Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.